Le omissioni, i ritardi e le negligenze nella gestione dell'emergenza coronavirus in Calabria sono finiti nel mirino della procura di Catanzaro, che ha aperto un fascicolo di indagine per l'ipotesi di epidemia colposa. La Guardia di Finanza ha già acquisito documenti e segnalazioni per fare luce sulla mancata attuazione del piano anti-covid, ma anche sui ritardi nell'attivazione delle usche e sulle carenze di tamponi, che hanno costretto tanti cittadini a rivolgersi a laboratori privati. Un contributo alle indagini potrebbe arrivare anche dall'esposto presentato al procuratore Nicola Gratteri, dei segretari generali di CGL, Cisle e Will. Abbiamo chiesto di fare luce sulle responsabilità di tutta la filiera di comando che in questi mesi non ha consentito di mettere in sicurezza la salute dei cittadini calabresi, bastava che ognuno facesse il proprio dovere per avere almeno 100 posti letto di terapia intensiva e subintensiva, abbiamo posto il tema legato ai tracciamenti e ai flussi che non sono stati dati per tempo, abbiamo posto il problema delle strutture ospedaliere che non sono nelle condizioni di fare i tamponi, abbiamo posto il problema della continuità assistenziale e quindi in questo momento serve chiarezza. Abbiamo depositato l'esposto proprio perché siamo fortemente convinti che c'è una situazione di caos che sta penalizzando fortemente la Calabria sul piano della salute pubblica ma sul piano anche dell'economia e dell'occupazione per quelli che saranno i risvolti sociali derivanti da questa emergenza. Stiamo preparando un documento di osservazione al decreto che finalmente ieri è stato pubblicato è un decreto che in parte recepisce alcune nostre sollecitazioni ma trascura aspetti importanti, c'è la questione del personale quindi lo sblocco delle assunzioni nella sanità che non lo affronta e questo per noi è un limite importante.